Volevo ringraziare Paolo Pesegato, Gianluca Vincenti, Domenico, glielo facciamo a tutti un grande applauso, i nostri organizzatori Univr, grazie a voi, noi siamo qui grazie a loro ragazzi, e adesso pronti, voglio che fate tutti quanti così, voglio un saluto a quelli ufficiali di tutti voi, tutti, buonasera Universitoli, applausi ragazzi, applausi solo per voi, i Gonzalez, da questo momento in poi, devo scendervi, i suoni quelli ufficiali, quelli originali, suona Mr. Rutte, voglio tutte le mani ragazzi, alza Alemanin, su, le, mani, su, le, mani, su, le, mani, aia, vevi, a suona a** Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti